Allora, benvenuti intanto e grazie della vostra puntualità. Vi dico che cos'è questa cosa prima, così sapete se vale la pena andare avanti oppure no. Vi dico innanzitutto che cosa non è. Non è un corso dove succede solo quello che sapete già, cioè io parlo e voi ascoltate. È un corso che richiede la vostra partecipazione e senza la vostra partecipazione non si può attivare un sistema di insegnamento che secondo me è quello più efficace, cioè quello in cui facendo delle cose si impara. Siamo abituati nelle accademie o nelle università, comunque nelle scuole superiori a questo modello di trasmissione dove c'è un emittente, un ascoltatore. Di solito quello che si ascolta dopo un po' viene cancellato, se non è legato a un fare e a una condizione emozionale. Questo corso è nato qualche anno fa all'Accademia di Brera a Milano, dove ero stato invitato a fare un seminario su tutt'altro. Era un seminario sulle nuove tendenze pittoriche americane, ma durante quel seminario mi sono accorto che l'esigenza degli studenti era un'altra, cioè non sapevano esattamente come funzionasse il mondo dell'arte fuori dall'Accademia, cioè erano a digiuno proprio dei fondamenti. Il come funzionano le cose là fuori è una cosa che di solito si impara sulla propria pelle. Allora, io ho capito che quello di cui avevano bisogno era innanzitutto imparare a strutturare il proprio lavoro artistico e, come dire, imparare a valutarlo. Valutarlo che non è cosa semplice, perché la valutazione del proprio lavoro nasce sulla base delle relazioni che hai con gli altri e sulla capacità di vedere il lavoro degli altri e analizzarlo e far vedere il proprio e ricevere dagli altri critiche e feedback. I contenuti di questo corso, che io ho sintetizzato in alcuni punti, sono come è composto in generale il sistema dell'arte, cosa che credo più o meno sappiate, ma che è meglio verificare, soprattutto come si realizza un portfoglio dei propri lavori, che è una cosa che noto in giro quasi nessuno ha, se non qualche pdf volante, che invece sarebbe bene avere e avere in senso proprio fisico. come si compila un curriculum espositivo, perché ho visto veramente le peggiori nefandezze in questo campo e soprattutto come si scrive uno statement. Lo statement, come dice la parola, è una dichiarazione sul proprio lavoro, scritta in prima persona ed è una cosa che gli artisti italiani all'estero fanno. Non importa a che punto della loro carriera siano, perché c'è un momento di verifica che cambia nel tempo. Lo statement non è lo stesso di quando hai 30 anni e quando ne hai 50, ma è un modo per dire la propria su quello che si sta facendo e sulla ricerca che si sta conducendo. E lo fanno anche artisti famosi, quindi non vedo perché gli artisti italiani non debbano avere questo tipo di approccio. Spiegherò anche la questione economica, che cos'è un coefficiente, come si calcola, come si stabilisce il prezzo di un'opera e perché, quali sono le relazioni in termini percentuali tra l'artista e il venditore e della sua opera. E soprattutto vorrei che vi esercitaste in quello che gli americani chiamano criticality, cioè la capacità di sviluppare un giudizio critico vedendo i lavori degli altri. Quello che succederà qua sarà che entro breve, spero cominciare già da oggi pomeriggio, iniziamo a vedere alcuni dei vostri lavori. Io non so se siete tutti artisti, ma spero che la maggior parte sia artista. E attraverso questo momento di confronto, che sarà ovviamente disciplinato da me in quanto arbitro, vi farò capire come si legge un lavoro, come si stabiliscono punti di forza e di debolezza. La parte in cui una persona presenta il proprio lavoro è importante perché è il momento in cui esemplifica quello che è in mente e deve essere chiaro per poterlo comunicare agli altri. Poi c'è una seconda fase in cui, mostrato il lavoro e spiegato il lavoro, l'artista deve tacersi e deve ricevere dei feedback dagli altri, cioè delle critiche, che ovviamente non si intendono come un atto maleducato o cruento nei suoi confronti. Quindi questo è in sintesi, ovviamente vi darò delle cose, leggeremo delle cose, vi darò come dei piccoli elenchi, perché io sono un fanatico delle elencazioni o delle top ten, di queste cose che si possano riassumere in breve, magari attaccare al frigorifero di casa per tenerle ben presenti. Vi dico perché è importante che voi facciate questo, non perché io ho un ego gigantesco, cosa che non escludo, ma perché questo corso che vi ho detto è nato a Brera, ha avuto due edizioni a Brera, sette altre edizioni successive, ha generato tra i partecipanti un discreto successo, perché questi partecipanti hanno avuto dei risultati. C'è chi li ha avuti immediatamente, subito dopo il corso, perché è stato capace di mettere in pratica quello che veniva detto, c'è chi ha dovuto maturare un po' e li ha avuti nell'arco di un anno. Io tengo un elenco di risultati raggiunti, perché penso che un corso è valido solo se ci sono dei risultati raggiunti e quindi solo se non resta una serie di chiacchiere molto belle e convincenti, ma che poi non rilasciano il loro potenziale. Ci sono stati non meno di una quindicina di artisti che dopo il mio corso, a partire da una condizione sicuramente non eccellente, sono riusciti ad arrivare finalisti in diversi premi, qualcuno ha vinto dei premi, più di uno, alcuni hanno iniziato a lavorare con delle gallerie, anche importanti, tanti, alcuni hanno vinto residenze all'estero e vi farò poi un elenco entro la fine di queste persone, perché i premi sono quelli anche abbastanza famosi, dal premio Cairo al premio Celeste al premio Arte Laguna e quindi i risultati si sono visti, io che ho visto le condizioni iniziali di partenza e poi ho visto i risultati e ho potuto constatare che c'è stato uno sviluppo vero, non finto. Quindi quello che non faremo qui è, come dire, un annoioso escursus di cose teoriche. Ecco, questo workshop non è teorico, infatti la mia preoccupazione era come facessero loro a seguire questa cosa dal momento che io vi chiederò di alzarvi fisicamente più di una volta e di fare delle cose, ma non subito ovviamente, perché adesso la prima cosa è il momento in cui voi vi presentate a me. Io, più o meno sapete chi sono, sono un curatore, mi chiamo Ivan Quaroni, faccio questo mestiere da oltre dieci anni e faccio solo questo mestiere, non ho altri lavori e per fare solo questo mestiere bisogna essere abbastanza corazzati. Ho fatto moltissime mostre, oltre duecento e quindi ho un'esperienza che è maturata sul campo. Anch'io ho studiato storia dell'arte all'università, ma quando esci dall'università di storia dell'arte sai quello che ti dicono i manuali. In verità la storia dell'arte contemporanea si impara anche quello sulla propria pelle e con la propria esperienza. Questo mondo dell'arte contemporanea non è qualcosa che si può studiare e leggere. Sì, si può studiare, si possono leggere delle cose, ma più che altro bisogna muoversi, vedere, collezionare esperienze direttamente. Quindi, adesso, se avete il microfono, dove sono i tecnici, comincerei proprio dall'inizio e vi chiedo brevemente nome, cognome, che cosa fate e perché siete qui. Ok? Cominciamo dal... Prima che tu inizi, una penna, per favore, così mi segno volti e persone. Ok. Ciao a tutti, io sono Anna Miccolis, mi presento qui in qualità di artista, ma in realtà solo da un anno da autodidatta ho iniziato, credo, proprio per una necessità mia di comunicare verso l'esterno, a disegnare. Quindi io l'ho vissuto come un fenomeno, è diventato un fenomeno nella mia pagina Facebook, ecco, devo essere onesta, che mi ha portato a realizzare anche una mostra qui al CNOS. E perché sei qui? Sono qui per curiosità. Per curiosità è molto vago, eh? Eh, lo so. Non ti impegna? No, assolutamente, però la spinta è stata quella, anche perché non ho idea di che cosa sia il sistema dell'arte, ho studiato storia dell'arte all'università, esco da facoltà di lettere, quindi non ho avuto per niente un percorso di studi artistico, quindi curiosità per capire un pochino di più e capire anche quello che è successo a me. Ok. Il mio nome è Paolo Guido. Alza, alza la voce. Pronto? Ok, Paolo Guido. Paolo Guido. Più o meno l'interesse che mi ha portato qui è quello di conoscere meglio il sistema dell'arte. Ma sei un artista? Sì, non mi piace definire, però sì. Questo è molto interessante. Mazzata. Ok. Sono Alessandra Lani, sono molto attratta dal mondo dell'arte, anche io ancora non so se bene definirmi un artista, mi sembra una parola molto grande, e sono qui per cercare di capire come fare ad uscire fuori un po' dalle porte di casa, perché appunto del mondo dell'arte, per quello che è, insomma, l'andare fuori, diciamo, non so niente, non mi è chiaro niente. Ok. Ciao, io sono Paolo Ferrante. Paolo, scusami. Ferrante. Ferrante. Ho fatto l'accademia e sono stato a Milano per quasi un anno, mi sono fatto, diciamo, un'idea di cose più o meno a grandi linee il mondo dell'arte contemporanea italiana e giovanile, però vorrei approfondire meglio questo mondo, insomma, ho l'ambizione di potermi definire un giorno artista. Ok. Sono un artista, un pittore, ho studiato all'Accademia di Belle Arti qui a Lecce e sono qui per capire appunto il sistema dell'arte contemporanea. Ok. Mi chiamo Francesco Romanelli, ho frequentato... Ho proprio dei problemi io di... Francesco Romanelli. Romanelli, ok. Studiato qui, studio qui all'Accademia di Belle Arti di Lecce, sono diplomato, ho lavorato l'anno scorso e niente, mi interessa... Sei artista? Sì, spero di confermarlo anche ancora. Quindi mi interessa questo percorso da aggiungere a quella che è poi la mia esperienza personale, quindi spero di trovare delle coerenze. Ok. Ciao, io sono Giulia Gazza e studio anch'io all'Accademia di Lecce, sono una laureanda e e sono qui per capirci un po' meglio, per avere meno dubbi, insomma, su tutto. Ok. Ciao, sono Marco Vitale, studio all'Accademia di Belle Arti di Lecce e ho pensato che qui potessi trovare qualche direttiva più precisa, è chiaro. Ok. Scavalca il Fossato che ci divide da... Salve, sono Loredana Albanese, ci siamo già conosciuti per telefono. Non avendo avuto modo di poter organizzare io il workshop, sono venuta qui. Ok, ma sei un artista? Sono un artista, sono una curatrice, anche una gallerista, però sono qui in veste di artista. Buongiorno, sono Spadavecchia Raffaella, sono Spadavecchia Raffaella. Raffaella, ok. Avete questa cosa che mettete prima al cognome voi, no? Intanto non siamo all'ufficio anagrafe, va bene? Raffaella. Allora, sono un artista querellista che è uscita da bottega, non da scuola, e sono venuta qui, è da poco tempo, da tre anni che insomma sono entrata nell'arte e sono qui proprio per imparare come si fa un curriculum, come si... ho fatto delle collettive, però ecco voglio approfondire ancora di più questo, voglio continuare questo percorso. Ok. Sono Massimo Pasca, vengo studiato a Pisa, storia dell'arte. e poi mi occupo di scenografia, illustrazione, pittura, c'ho l'eco anche un po', così qua, e faccio mostre da una quindicina d'anni, e niente, sono qui per essere smentito fondamentalmente. Io sono Giuseppe Apollonio, mi sono formato come architetto e mi campo con l'architettura, però diciamo come attitudine mi sento un artista e ho bisogno di strutturare meglio una certa produzione autonoma, insomma che ancora non ha un... diciamo non ho fatto grandi mostre, non ho un'idea proprio chiara della mia ricerca, quindi voglio mettere a punto alcune cose. Salve, io sono Brizzo, così non c'è nome e cognome come problema, tradotto è Francesco Favale, nel caso, e sono laureato in beni culturali qui a Lecce, ho fatto un master in una ECT per i beni culturali a Firenze, ho viaggiato un po' insomma in tutta Italia, ho fatto qualche esposizione... Come artista o come curatore? Come artista. Come artista. Praticamente, come diceva prima lei, sul fatto di... dove essersi laureati, il punto non è tanto quello che devi continuare a fare, ma quello che poi cerchi, cioè qual è la tua strada in pratica, e dopo aver finito ho deciso di fare altro, e quindi mi sono poi buttato su quello che può essere l'arte, in realtà in generale non ho uno specifico di attitudine, cioè non è... Mi sono occupato di... Varie tecniche, in sé di dire. Ho fatto qualche esposizione sia come fotografo che come pittore, che come digital artist e altro, e mi occupo di quello ora, perché non faccio praticamente nient'altro e quindi sono molto contento, ma da questo a definirsi poi in realtà un artista, credo che ancora ci voglia un po' di tempo, quindi per ora non credo di dovermi definire da... Ok, i due che sono arrivati, ci sono due posti qua, per favore venite avanti. Salve, sono Di Azenna, José Roberto. Scusami, ma veramente io non capisco, dovete alzare la voce. Di Azenna, Di Azenna, José Roberto. José Roberto, facciamo, dai. Sono un autodidatta, non ho mai frequentato corti, accademi, altro, e vorrei, sono qui per capire come fare per poter, diciamo, come fare questo percorso. Aspetta, aspetta che c'è una persona, no, 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 intanto che ha il microfono. Sono Angelo Leone, sono stato un insegnante di educazione artistica, ma per questione di tempo, ho lavorato pochissimo nel campo della pittura e di tutto quello che, diciamo, mi sarebbe piaciuto portare avanti. Sono qui appunto per conoscere il mondo dell'arte contemporanea, che ne conosco ben poco, sinceramente. Va bene. Ai ragazzi, anche tu fai Cristiano? Va bene, non c'è bisogno che... Io sono Cristiano Pallara. Ti presenti già. Faccio il giocattolaio. Realmente. Dai, sciocco, passa il telefono, il microfono ai nuovi giunti. È acceso, è acceso. Salve, sono Vincenzo Malaglino, come dicevo, e mi dedico alla pittura da un po' di anni ormai, sono diplomato all'Accademia di Belle Arti e niente, come tutti gli altri penso, ovviamente ho bisogno di conoscere il mondo dell'arte contemporanea, che è ben lontano dal mondo accadente, accademico, vissuto all'interno delle accademie qua, almeno qua a Lecce, per cui sono qua per questo motivo. Grazie. La ragazza. Io sono Simona Pistorello, ho 30 anni, in realtà io sono laureata in lingue per la comunicazione internazionale e poi un po' per gioco ho aperto una pagina Facebook dedicandomi a quello che per me era un hobby, che devo dire è diventato più di un hobby, è diventato proprio un lavoro dove vendo sia i miei quadri, ma anche dei gioielli dipinti, e quindi ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti e sono al secondo anno, quello che mi aspetto è di capire anche un po' meglio il contesto nel quale mi sono inserita un po' così, anche per gioco. Va bene. Allora, prendiamo il toro per le corna. Quando io dico sistema dell'arte contemporanea, voi che idea avete di questa parola? Cos'è? Il sistema dell'arte contemporanea. Una parola che avete sentito tanto, no? Intanto è una parola che è un termine che credo abbia introdotto forse per la prima volta Achille Bonito-Oliva. Il sistema dell'arte contemporanea, come tutti i sistemi, implica una serie di relazioni tra vari componenti di una filiera, diciamo. Stiamo parlando di economia. Cioè, il sistema dell'arte è un sistema economico, non è una cosa in cui si fanno delle mostre per cultura. Certo, si fanno anche per cultura, ma non sarebbe detto sistema se non ci fossero delle transazioni economiche. Guardate bene che tutta la storia dell'arte che voi conoscete era già fondata su un sistema economico. Non esistono i grandi nomi che avete studiato nei manuali senza una economia dietro. A fare grandi quei nomi è stata l'economia. Raffaello è diventato Raffaello grazie alle grandi committenze che ha ricevuto. Lo stesso Michelangelo, lo stesso Leonardo e così via, solo per citare i più conosciuti. Cioè, la prima cosa da scardinare qui è l'idea che l'arte e il denaro non debbano avere nulla a che fare. Questo è il pregiudizio numero uno che può causare i più grandi danni alla vostra vita. Ma è proprio il pregiudizio numero uno. E credetemi, è il più radicato. Cioè l'arte come qualcosa che sta al di sopra, in una dimensione aurea e astratta, e il denaro lì, vile, sporco, di cui tutti abbiamo bisogno ma che non vogliamo contaminare con i nostri pensieri puri. Cazzate. Sono cazzate che danno adito a tutta una serie di alibi per non fare cose e che si traducono nella vita di ognuno in frustrazioni. Quando l'artista ha alibi e frustrazioni è certo, è matematico che non andrà da nessuna parte. Questa è il primo, la prima bombetta che vi lancio, perché credetemi anche in una città come Milano, da cui provengo, dove esiste un sistema dell'arte, c'è nei giovani e anche nei meno giovani questa sorta di pregiudizio micidiale. È chiaro che se io penso che l'arte non ha a che fare con il denaro, io non farò mai i soldi con l'arte e possibilmente farò fatica anche a campare con l'arte che faccio. Questa è la prima cosa, se pensate così cercate di ripensare questa cosa, perché non possiamo ottenere, no, adesso è il mio momento, è un momento, quello che vi dico non sono informazioni di natura culturale. Cioè, troverete anche nel sistema che c'è gente che la pensa così, ma gli è andata di culo, perché se la pensi così è ragionevole e di buon senso comprendere che non puoi fare certe cose, nel senso che se io penso che, vi faccio un esempio molto banale, se io penso che tutti i ricchi sono stronzi, io non diventerò mai ricco, perché una parte fondamentale e importante di me crede che ottenere la condizione della ricchezza equivalga a diventare una persona disonesta o sgradevole o quant'altro. Questo è buon senso, io non posso diventare ciò che intimamente credo sia sbagliato, io devo prima capire che non è vera questa cosa e devo capire che invece quella condizione che io cerco di raggiungere, essere un artista o essere ricco o essere buono o quello che volete, deve avere il beneplacito del mio subconscio. Il mio subconscio è il mio più grande nemico, ciò che io penso in termini pregiudiziali si verifica, se io penso che l'arte è una cosa pura e incorruttibile, cosa che senz'altro è, ma penso che ad essa non si può saldare il concetto del denaro, io non riuscirò ad avere quella cosa, non riuscirò a tradurre e a mettere in pratica i comportamenti necessari perché quella cosa incorruttibile e pura si traduca anche in una cosa che mi rende la vita più facile, il denaro. Questo è il punto veramente nevralgico della faccenda e lo dico perché nelle vostre presentazioni emerge chiaramente una sorta di parsimonia nell'uso del termine artista, cioè un timore nel definirsi artista che denuncia proprio questa idea, anzi questa idealizzazione della figura dell'artista. L'artista è una persona come noi, normale. Se io non riesco a dire di me stesso che sono un artista, io non diventerò un artista, perciò la prima cosa che devo fare per ingannare il mio subconscio è mentire, cioè comportarmi come se fossi quella cosa che voglio raggiungere finché non l'ho raggiunta. Che badate non significa che io millanto, sì certo anche, posso anche millantare, ma mentre millanto faccio tutto il possibile per realizzare quella cosa. Quindi fin tanto che non sono un artista mi comporterò come un artista facendo di tutto per esserlo ed ecco che diventerà facile dire io sono un artista. Noi temiamo il giudizio degli altri, se io dico io sono un artista e gli altri fanno la risatina e io mi sento ferito, devo poter dire sono un artista. Poi stabiliremo se sono un artista di successo oppure no, ma questo è secondario. La prima cosa è dire io sono un artista perché faccio arte, poi magari non ho ancora capito esattamente come promuoverla, come farmi conoscere, che cosa devo fare, ma io sono un artista. Quindi due cose. Pecunia non ho let, il denaro non puzza e io sono un artista. Dimmi, ho quella obiezione che avevi. Aspetta aspetta che ti danno il microfono. Credo che nel mezzo ci sia il durante, non c'è il prima e il dopo, non c'è il pensare ai soldi prima che comincio a fare una cosa oppure dopo quando c'è la ricompensa. C'è il durante, questa parte mi è sfuggita. Cioè che cosa vuol dire? Durante che succede? Cioè nel senso è troppo dicotomico dire a non pensare o pensare ai soldi. Durante, l'ho appena finito di dire, nel durante tu ti comporti come se, cioè come se fossi già l'artista, come se fossi interessato a fare in modo che l'arte si traduca ai soldi. Se mi comporto in quella maniera non ho bisogno di convincere nessuno, soprattutto me. No, è invece proprio te che devi convincere. Perché sono già convinto. Che funziona così? Eh beh certo. Allora dovresti avere abbastanza risultati tangibili. Cioè nel senso... Allora quello ne sono contento però, cioè nel senso non credo che uno se si impone di essere un artista, in quel senso lì... Non ti imponi di essere un artista. Tu vuoi essere un artista, capisci che hai ancora qualcosa da fare per esserlo completamente e quindi agisci. Ma infatti è quello che sto dicendo. Però agisci perché sai che tu sei un artista. Ma il fine del corso cos'è? Qual è? Il fine del... Del corso, dopo questa bombetta che... Questo è l'inizio del corso. Sì, il fine, il fine ultimo. Il fine lo vedrai alla fine. Sì, però la bombetta in previsione è una guerra. Ma ti vuoi fare tutto adesso di un corso di tre giorni? No, però cioè voglio dire... Facciamo così, se hai pazienza duri fino alla fine e poi mi dirai alla fine se ti è servito. Sicuramente, però nell'ottica della bombetta non si può sapere niente. Ma in che senso? La bombetta che hai tirato prima. Io ho appena detto una cosa molto importante. Non capisco perché stai polemizzando e su che cosa precisamente. Sto polemizzando sull'autoimposizione di credere di essere artistico. Non ho detto che se sei un artista ma avverti che mancano ancora delle cose, devi fare come se fossi un artista. Nel frattempo fare tutto il possibile per diventarlo fino al punto da dire sono un artista. Hai parlato di subconscio. Subconscio. Il subconscio, quando tu innesti delle abitudini nuove, inizi a fare cose che non facevi, il subconscio si adegua. Ma finché fai sempre le stesse cose, cioè non so se sono un artista e dunque non dico ad amici, parenti o sconosciuti che sono un artista. Ma che c'entrano gli amici, parenti, gli altri? Tutto questo discorso. Che c'entra questa tua polemica? Non capisco. No, no, no. Stavo cercando di capire. Cioè sta interrompendo l'inizio di una cosa. Va bene. Va bene. Che cosa vuoi sapere? Niente, niente. No, ma spiegami. Che cosa vuoi sapere? Una definizione dell'inconscio? No, la conosco. E allora? Non capisco qual è la tua domanda. Non capisco l'imposizione. Questa cosa non mi torna. Io non ho detto imposizione. Ho detto fare come se. E fare come se. Un calciatore può anche dire che sono il miglior centrocampista del mondo, ma se non fa assist poi non va da nessuna parte. Ma infatti, ma se vuoi diventare il miglior centrocampista del mondo, devi prima pensare... Devi fare, non devi essere convinto di fare. Allora, ascolta bene, ragazzo. Questa bottiglia non è nata un giorno così, da sola. Qualcuno ha pensato alla forma della bottiglia. Perché c'era prima l'acqua. Ma non c'era la bottiglia. L'ho dovuta pensare. Non esiste nessuna realtà che non sia stata prima pensata. La lampadina non è nata così. Ma c'era l'esigenza della luce. Allora, se non c'è l'esigenza di essere artista, quella è la porta, non so come dire. Se sei qua, questo corso si chiama manuale per artisti. Io ho premesso che sono qui per essere smentito comunque. No, ma io non devo stare qua col pensiero di smentirti. Io sono qua per dire delle cose. Anche io sono qua per discutere. Poi tu devi avere la pazienza di giungere alla fine. Assolutamente. Quando dico bisogna prima pensare di essere e agire come un artista, implica che tu devi prima formulare l'idea di essere un artista. Perché non esiste al mondo nulla che non sia prima stato pensato, prima che fatto. La cosa nasce sempre da un bisogno. Se qui c'è qualcuno che non ha il bisogno di essere artista, è nel posto sbagliato ed è meglio che vada a fare una cosa più produttiva per lui. Quindi questo è il corso per chi sente fortemente il bisogno di essere artista. A questo tipo di persone sto dicendo che se sentono questo bisogno devono iniziare a comportarsi da artista, anche se avvertono che non lo sono. Perché all'inconscio non interessa se tu dici la verità o meno. L'inconscio registra i nuovi comportamenti. Se tu ti inizi a comportare in modo che sei un artista, l'inconscio si convince. E quindi ti uscirà dalla voce, con molta più facilità, io sono un artista. Io non ho avuto bisogno di, come dire, iniziare a curare tante mostre prima di dire sono un curatore. Ho detto sono un curatore e ho dimostrato nella mia vita di esserlo diventato. Non ci ho messo molto. Ci ho messo il tempo che serviva ad acquiettare la coscienza. Se io dico voglio essere uno scrittore e continuo a dire voglio essere, l'inconscio sente che tu vuoi essere, avverte una mancanza, non la realtà. E quindi continui a voler essere qualcosa. Se io dico sono uno scrittore, mi vincolo a quella cosa, mi inganno, non so come dire. Dico a me stesso che sono uno scrittore e quindi con i fatti e con le azioni sono obbligato a dimostrare che è vero. Se non ho questo obbligo... Con i fatti e con le azioni. Eh? Con i fatti e con le azioni. Con i fatti e con le azioni. Ma prima viene il pensiero dei fatti e delle azioni. No, per me è diverso. Fondamentalmente ognuno è diverso. Per me prima vengono i fatti e le azioni in maniera naturale. Come in maniera naturale ci si può relazionare al denaro o no. Stai dicendo una sciocchezza perché i fatti vengono perché tu hai un obiettivo. Se io bevo un bicchiere d'acqua è perché ho bisogno di bere. Il obiettivo si trova per strada. Non bevo acqua prima di pensare di aver bisogno di bere. C'è un'esigenza prima. Ma quello è un altro tipo di esigenza, credo. Non funziona così. Il desiderio è il primo motore del mondo. Comunque, passiamo il microfono, se no stiamo su questa cosa. Io non penso di aver detto una cosa così astrusa. Se vogliamo fare le pulci su ogni singola cosa il corso non va avanti. Capite? Quindi, quando io dico che cos'è il sistema dell'arte, voi dovete avere in mente qualche cosa. Vi ho detto che il sistema è legato al denaro. Il sistema però ha una strutturazione. Dovete immaginarlo come una sorta di piramide perché è, come dire, gerarchico, è organizzato. Alla base, purtroppo, della piramide ci sono gli artisti. Non perché siano meno importanti, ma perché sono il sostegno di tutto. Cioè, senza gli artisti non esiste nessun sistema. Senza la produzione di opere d'arte non esiste nessun sistema. Quindi, gli artisti sono il fondamento. Dopodiché, l'artista ha bisogno di alcune cose e non può solo limitarsi a fare arte. Soprattutto oggi, ma anche nei tempi antichi. L'artista non è mai stato solo un artista. Raffaello aveva a bottega non meno di 24 persone. Quindi, era già un imprenditore. Doveva coordinare il lavoro dei suoi assistenti. Si occupava di contrattare quando riceveva le committenze. E, tra l'altro, ebbe anche incarichi di archeologo pontificio. Cioè, l'artista veramente conscio del proprio lavoro non può essere solo quello che è chiuso dentro uno studio a dipingere o a fotografare o a elaborare digitalmente o a scolpire o quello che volete. Cioè, l'artista deve essere un essere molto relazionale se vuole raggiungere dei risultati. Io capisco che non sia romantico, ma è così. Cioè, questa visione dell'artista outsider, che per carità esiste, l'artista outsider, ma lo dice la parola, è fuori, è out. Questo è un corso che parla di come diventare insider e di che cosa fare per diventare insider. Quindi, abbiamo detto, l'artista è il primo elemento del sistema dell'arte. Poi, ovviamente, ci sono quelli che devono vendere le opere dell'artista, quando non lo fa già lui da solo. Oggi, molti artisti vendono, come dire, direttamente. Il problema è che se vendi direttamente e non ti avvali di mediatori, soprattutto di mediatori che possono fare delle mostre, delle esposizioni, tu ricevi denaro, ma non ricevi riconoscimento. Nessuno sa chi sei, se vendi, se non chi ti ha comprato. Quindi, il ruolo del mediatore è sì quello di essere un venditore, ma anche quello di essere un promotore culturale. La galleria, tanto per intenderci, è il venditore, non si occupa solo di vendere, fa la mostra, fa un catalogo e si avvale dell'aiuto di un critico che produce quella cosa che fa in modo che resti una testimonianza, una traccia della lettura del tuo lavoro. Quando alla fine di una carriera uno ha molti cataloghi, molte letture critiche, esiste, come dire, la possibilità che tutto questo materiale sia disponibile per la consultazione di quelli che invece fanno un altro lavoro, gli storici dell'arte, i quali si avvalgano proprio della letteratura critica, coeva alla vita dell'artista. Quindi da lì partono, per dare poi una lettura magari più obiettiva, perché il critico non è obiettivo, è militante, è, come dire, partecipe e dunque mai super partes. Quindi questa cosa serve perché l'artista venda, ma allo stesso tempo per costruire qualcosa, per rimanere nella storia. Senza questa mediazione non nasce la storia dell'arte, non so come dire. Cioè noi conosciamo la storia dell'arte perché c'è stato un signore come Vasari che ne ha scritto, ma prima ancora Cennino Cennini, ma molti altri poi a seguire. Cioè la letteratura artistica ha fatto in modo che noi conoscessimo l'arte così come la conosciamo. Non perché questa aggiungesse maggior valore, perché le testimonianze fisiche ci sono state, però tanti artisti sono stati scoperti recentemente, artisti coevi dei grandi. E quindi cosa ha fatto, cosa c'è stato in mezzo per scoprire? C'è stata della letteratura critica, degli studi. Quindi abbiamo detto artisti alla base della piramide. Poi ci sono i venditori, i venditori sono di diverso tipo, però attenzione. La galleria è il venditore ottimale, nonostante oggi se la passino male, perché è il produttore anche di quella letteratura critica, o comunque il committente sia del critico che dell'artista. Però ci sono altri tipi di venditori, i cosiddetti dealer, li chiamano nel mondo americano. Spesso nel mondo americano i critici d'arte sono anche dealer, quindi in verità più che un figure completamente culturale, sono delle figure di collegamento tra il mondo del collezionismo, la galleria e l'artista. Non è così in Italia e anche in generale non è così in Europa. Il dealer, ce ne sono alcuni in Italia, sono semplicemente dei freelance, i quali conoscono le gallerie, conoscono collezionisti e mettono in relazione. Ovviamente prendono una percentuale sulla transazione. Quindi non ha gli oneri della galleria perché non deve mantenere uno spazio, non deve produrre un catalogo, non deve pagare un critico, semplicemente mette in collegamento la domanda con l'offerta e dopo la transazione riceve una percentuale che può girarsi dal 10 al 30%. Quindi artisti, venditori, cioè gallerie e dealer, e poi c'è un altro piccolo pezzo da tenere presente. Critici e curatori sono, oltre che i produttori della letteratura critica, sono delle figure di collegamento tra il mondo degli artisti e il mondo delle gallerie. Diciamo la verità, i galleristi hanno scarso tempo e attenzione per poter andare negli studi degli artisti e conoscere quello che sta accadendo e farsi un'idea. Il critico di solito ricopre questo ruolo ed è lui a portare alle gallerie i nomi degli artisti che ritiene più interessanti. Ovviamente ci sono tante tipologie di critici, ci sono molte specializzazioni, c'è chi si occupa prevalentemente di video e di fotografia, chi si occupa prevalentemente di pittura, come ad esempio io, e chi si occupa di altre cose, o chi si occupa anche di tutto. Quindi ciò che decide un critico non è obiettivo, non è qualche cosa che deve essere in qualche modo considerato legge, è un parere interessato di un conoscitore, di uno che conosce quello che accade e sceglie, ma sceglie in base alla propria sensibilità, sceglie ciò che gli corrisponde per temperamento, se è onesto, se è disonesto, sceglie ciò che avverte essere in quel momento di moda, o in qualche modo in sintonia con il proprio tempo. E' bene che il critico abbia sempre un'antenna collegata alla sintonia del proprio tempo, perché per fare storia bisogna fare in modo che si documenti ciò che è la temperie di oggi, che è diversa da quella di... Tu puoi essere un grandissimo artista, ma se rifai, come dire, uno stile, un modo, o parli di un'epoca lontana, ovviamente non hai una corrispondenza con il mondo presente, l'artista deve sempre avere una corrispondenza con il mondo presente, cioè dialogare, questo non vuol dire che debba essere un modernista, o comunque una persona sempre proiettata in avanti, ma perlomeno una persona, vedendo i cui lavori, tu possa dire questo è un artista di questo periodo, di questo decennio che è diverso dal decennio precedente, probabilmente sarà diverso da quello che verrà. Quindi questa sintonia col tempo, questa tensione verso lo zeitgeist, è qualcosa che il critico deve avere, e anche l'artista ovviamente. Non ci sono però come figure di collegamento, o come figure di produzione letteraria e culturale, solamente i critici e i curatori, esistono ovviamente i giornalisti di settore, o i giornalisti generalisti, che sono molto importanti per un altro aspetto, che è quella della comunicazione. Noi abbiamo fatto la nostra mostra, abbiamo il nostro catalogo di galleria, abbiamo il nostro testo critico, il pubblico generalista, o degli addetti ai lavori, non sa che c'è questa cosa. I giornali aiutano a far sapere alle persone. Inoltre, ciò che appare sui giornali, per una magia incomprensibile, appare molto più credibile di quello che non appare sui giornali. Quindi, quello che deve fare l'artista è avere relazioni con i venditori, con i critici e i curatori, e con i giornalisti. Ok? Il lavoro dell'artista, l'ho detto, è un lavoro di relazioni, oltre che di lavoro, perché le relazioni da sole, ovviamente, non bastano. Tu puoi essere un grandissimo PR, ma il tuo lavoro non c'è. Può darsi anche che tu ottenga qualcosa, ma non è duraturo. Dopo, diciamo, la fascia dei curatori, critici e giornalisti, di settore e non, il livello superiore è quello rappresentato dalle istituzioni pubbliche, in particolare musei e fondazioni. Io sono l'artista, ho fatto le mie belle mostre, ho il mio catalogo, sono documentato, ma non ho un lavoro in un museo. Quando il mio lavoro approda il museo, quello è un segno di affermazione molto forte. Ovviamente ci vuole una strada per arrivare fino al museo. Cosa fa il museo? I musei, perlomeno all'estero, in Italia un po' meno, acquistano quelli che considerano gli artisti più interessanti dalle gallerie. Quindi c'è una relazione tra i venditori galleristi e le istituzioni. All'estero funziona che i comitati dei musei, che sono normalmente formati da chi sostiene economicamente il museo. Il MoMA è sostenuto economicamente, non pubblicamente, cioè c'è proprio un comitato di persone che sostengono. Ovviamente ciò che questi acquistano in galleria, quindi l'artista che comprano in galleria, si traduce in suggerimento nel comitato di quello che dovrebbe essere nel museo, che io prodigamente sostengo. Quindi è ovvio che se io compro Pinco Pallino e poi faccio la riunione del comitato del MoMA, sono interessato a che quell'artista che io ho comprato sia rappresentato al MoMA, perché questo costituisce un avvaloramento del mio investimento da privato. All'estero di solito funziona così, poi ci sono anche istituzioni pubbliche formate da commissioni super partes, però diciamo che la tendenza è grandi gallerie, grandi artisti che finiscono nei musei, piccole gallerie, gallerie medie, artisti non finiscono nei musei, però magari fanno una dignitosa carriera e poi a un certo punto possono anche finire nel museo. Quando io dico gallerie, sto dicendo una realtà che in realtà è multiforme, non esiste un tipo di galleria e basta, ci sono tanti tipi di gallerie, le gallerie famose a livello internazionale sono delle aziende, alcune delle multinazionali tipo Gagosian, la galleria di prossimità che ha un piccolo nucleo di artisti, spese contenute, non è quel tipo di galleria là, ci sono piccolissime realtà, alcune sono anche associazioni culturali e ci sono grandi realtà con molti dipendenti e strutturati come delle aziende. E' più facile che queste grandi gallerie conducano l'artista ad essere parte di una collezione di un museo, semplicemente perché da grandi gallerie con un grande potenziale economico vanno collezionisti con altrettanto potenziale economico. La piccola galleria vive grazie agli acquisti dei professionisti, magari avvocati, commercialisti, dentisti, la grande galleria ha collezionisti che sono industriali, finanzieri, eccetera. Quindi ovviamente la differenza è abissale. Quando uno compra in una grande galleria sta già comprando un artista che probabilmente è già al museo, altrimenti non sarebbe in quella galleria. Quindi quando parliamo di gallerie parliamo di una realtà molto frastagliata. ovviamente un ruolo molto importante nel sistema ce l'hanno le riviste. Le riviste di settore che sono influenti per quanto riguarda il collezionismo. Cioè i collezionisti leggono le riviste di settore, i veri collezionisti. Probabilmente il professionista che compra per arredare la casa non è un lettore di riviste. come in Italia sapete abbiamo principalmente flash art e arte di Cairo Editore. Però diciamo flash art ha esercitato un ruolo di influenza a prezzo di collezionisti. Arte è anche uno strumento di influenza del collezionismo perché ha una parte tutta dedicata al mercato dell'arte con i prezzi delle aste e quindi che dà un po' il polso di come sta andando del mercato. Le aste, le case d'asta sono un altro elemento di questo sistema molto importante. Oggi importante in maniera critica dal punto di vista delle gallerie perché sono diventate le veri e propri competitor delle gallerie. Cioè noi troviamo degli artisti se vogliamo acquistare a prezzi molto inferiori nelle case d'aste rispetto alle gallerie che per una vita hanno difeso l'artista e il suo prezzo. Quindi diciamo che è un ruolo critico ma questo rispecchia la fase di crisi in cui sono le gallerie poco strutturate. Le case d'aste sapete quali sono principali sono Sotheby's e Christie's anche se ci sono altre case d'aste importanti tipo Dorotheum di Vienna Philippe de Puri di New York e altre e ovviamente anche il passaggio nell'asta è un punto di avanzamento per l'artista. Se tu hai fatto così bene e sei così conosciuto da arrivare in asta allora hai fatto bene perché non arrivi in asta se sei sconosciuto. Sì puoi arrivare in un'asta di beneficenza perché ti hanno invitato tu hai donato il lavoro ma un'asta vera e propria implica che io ho un prodotto che deve avere una domanda. cioè se quel prodotto non ha una domanda io non lo venderò mai quindi quel prodotto deve essere conosciuto in qualche misura anche in una nicchia ma deve avere come dire un possibile pubblico di acquirenti. Ok quindi ricapitolando la parte molto noiosa il sistema è composto da artisti venditori barra gallerie dealer critici curatori giornalisti e riviste istituzioni museali o fondazioni di privati vedi quelle italiane per esempio Prada è la più importante però ce ne sono anche altre che anche queste a loro volta hanno poi un ruolo influente nel mercato quindi questa è la composizione i rapporti tra tutti questi elementi sono complessi e per penetrarli bisogna diventare un insider ok quando io dico che bisogna diventare un insider che cosa come si fa a diventare degli insider cioè se io voglio diventare parte di qualcosa che cosa devo fare per diventare parte di qualcosa eh devi parlare si informarsi come si fa a conoscere informarsi esatto esatto però internet da solo non basta non troverete mai un gallerista che non mi abbia visto almeno in faccia difficile allora il segreto è frequentare è quello che io dico ossessivamente non ci sono altri trucchi il trucco è che se stai a casa e non hai voglia di alzare il tuo sederino per andare a vedere le mostre in maniera compulsiva e ossessiva tu non vai da nessuna parte il problema di un territorio come la Puglia è una rete troppo a maglie larghe di questo sistema pochissime gallerie qualche realtà di associazione culturale ma il sistema vero e proprio non è qua per costruirlo ci vogliono soldi ci vuole la buona volontà però non delle istituzioni le istituzioni possono aiutare le associazioni culturali i soldi e il sistema è costruito da privati non si può pensare di costruire un sistema dell'arte dicendo allo Stato aiutaci a costruire un sistema dell'arte gli stati in cui è molto forte come dire il contributo pubblico agli artisti sono stati che non generano arte importante per esempio l'Olanda non genera artisti interessanti da tantissimi anni perché gli artisti vivono in uno stato di assistenza quando hai il pane non hai i denti è così devi essere un lupo devi avere fame se vuoi mangiare se mangi non hai fame sei a posto non chiedi altro succede in Olanda succede in parte anche in Francia certo io mi rendo conto che in una condizione difficile come vivere in Puglia sia desiderabile avere questa idea di uno stato che ti possa aiutare comprare quello che ti serve per fare l'artista a sbarcare il lunario ma non funziona così la vita non funziona così dovete muovervi dovete frequentare questo è veramente il segreto e potrei dire l'unico se non fossi sicuro che dirlo non basta voi avrete la riprova quando iniziate a frequentare se c'è un'inaugurazione si va all'inaugurazione se si vuole fare questo lavoro non si perde neanche una inaugurazione se si vuole fare l'artista soprattutto dove ci sono poche realtà quante gallerie ci saranno a Lecce due o tre due o tre diciamo due che fanno il contemporaneo una che fa il contemporaneo l'altra che tentenna qualche associazione ma l'associazione non vende l'associazione fa cultura a meno che non sia un'associazione cioè una galleria sotto mentite spoglie cosa che accade bisogna muoversi e muoversi non vuol dire solo Lecce vuol dire andare fare la fatica e l'esborso economico di essere mobili per essere mobili bisogna mettere via qualche soldino fare qualche sacrificio è così che funziona se ci c'è un altro elemento che scusate ho scordato di dirvi nel grande sistema dell'arte le fiere le fiere sono il momento in cui chi vive non nei grandi centri di arte contemporanea ha a disposizione tutto il campionario dell'offerta o gran parte quali sono le fiere italiane importanti qualcuno di voi lo sa? Bologna? eh? no Bolzano no Perona no diciamo che Bologna lo sapete tutti è la fiera di mercato è la numero uno se volete fare gli artisti a Bologna ci dovete andare quando ci sono quei quattro giorni di fiera e non ci sono cazzi bisogna andare se non vai non diventi un insider le altre grandi fiere e mi dispiace che non le sappiate certo Verona è una fiera abbastanza interessante ma non muove granché le più importanti sono Artissima a Torino dove ci sono le cose più contemporanee spinte e dove ci sono più gallerie straniere che quindi dà un profumo anche di ciò che succede oltre cortina invece Bologna è una fiera essenzialmente italiana con qualche partecipazione straniera ma sempre più sporadica 10 10-15 anni fa Bologna era una fiera con grande partecipazione di gallerie straniere l'altra è Miart Milano queste sono le tre fiere a cui si va per forza per forza io vi sto fornendo tutte le ragioni perché voi non vi raccontiate storie se vuoi diventare queste sono le cose da fare frequentare 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 e andare alle fiere perché perché dico frequentare cosa succede quando si frequenta qualcosa che si conosce qualcuno a furia di andare no? Allora una domanda che mi viene spesso posta è ma io come faccio a presentare il mio lavoro a un gallerista e si aspettano che io abbia la chiave segreta per cui gli dico si fa così e così no voi potete scrivere quanto volete i galleristi la maggior parte non risponde perché ten che fa ha da fare voi dovete immaginare in questo mondo che le persone non hanno pazienza voglia e tempo una volta ho dipinto così la figura del gallerista è una macchina del calcincuolo come dire del calcincuolo con il calcio tirato in resta come un grilletto pronto a scrappare quando voi andate e avete già come dire la fortuna di arrivare alla sua soglia e di essere come dire in qualche modo ricevuti lì state giocando una partita molto importante dove contano alcuni fattori perché la pazienza non c'è a parte che un gallerista è un critico ancora di più capisce al primo lavoro che vede il primo non ha bisogno di vedere ne vede uno e già capisce dove sei e dove puoi andare quindi come si fa ad arrivare alla soglia di questi benedetti galleristi o di questi benedetti curatori così poco disponibili si frequenta cosa succede quando si frequenta si conoscono gli artisti principalmente che sono lì per le stesse vostre ragioni tra gli artisti che conoscete ce n'è qualcuno che lavora per quella galleria che siete andati a vedere allora sappiate una cosa non è vero che gli artisti sono sempre in competizione tra loro gli artisti sono persone generose io devo tutto quello che sono riuscito a fare agli artisti senza gli artisti non avrei potuto fare questo lavoro quindi io non ho mai creato un artista io sono stato ho avuto la fortuna di frequentarli e di conoscerli e la loro generosità non è mai mancata quindi quando tu vai a un'inaugurazione cioè non vai a vedere una mostra quando è già inaugurata certo quel giorno non sei potuto andare andrai un altro giorno ma principalmente vai all'inaugurazione perché vanno tutti all'inaugurazione e quindi conosci persone le persone sono curiose ti vedono una volta ti vedono due volte ti vedono tre volte alla fine chiedono chi sei cosa fai vogliono vedere il tuo lavoro e se un artista intelligente quando vede un buon lavoro lo dice al suo gallerista e ti presenta al suo gallerista non c'è niente di meglio che essere presentati a un gallerista da una persona che conosce il gallerista questo può essere un collezionista può essere un curatore può essere un artista e dove li trovate alle inaugurazioni chi ci va collezionisti curatori artisti il pubblico generalista di curiosi sì certo potrebbe diventare qualcuno di loro un collezionista un giorno però capisci se tutto il mondo che mi interessa frequentare lì io devo andare lì il più volte possibile e in più continuando a vedere mostre io capisco ciò che è buono da ciò che non lo è e questo posso rifletterlo su di me e posso iniziare a ragionare e a vedere che cosa non va del mio lavoro e del mio modo di comportarmi e perché non riesco ancora a ottenere dei risultati frequentare mi aiuta a crescere la mia capacità di visione e di critica delle cose a creare relazioni con gli altri e ad avere quindi opportunità di mostrare il mio lavoro ecco perché questo corso ha come punto centrale come si costruisce un portfoglio perché che cazzo gli fai vedere cioè può essere che il gallerista venga in studio ma anche no può essere che ti dia un appuntamento per simpatia e quindi tu gli devi far vedere il tuo lavoro il curatore può venire in studio ma anche no cioè la gente non ha tempo ha da fare e non ha pazienza il portfoglio serve a due cose adesso facciamo anche una pausa il portfoglio serve a due cose capire dove stai andando e qual è la bontà del tuo lavoro perché è come un diario di bordo cioè è come il riflesso di cosa sto facendo io cosa sto facendo ed è una cosa che implica la capacità di selezionare le cose migliori e di proporre le cose migliori è il tuo specchio e allo stesso tempo è lo strumento che tu fai vedere agli altri per illustrare la tua ricerca è molto importante organizzarlo in una maniera buona e strutturata anche con una veste comunque grafica sempre sobia io dico perché parlano i lavori non parla la grafica e quindi è proprio il momento di realizzarlo la fatica che si fa che fa in modo che questo strumento poi serva all'uopo quindi per ricapitolare abbiamo parlato del sistema dell'arte abbiamo parlato di che cosa principalmente fare per diventare degli insider ovviamente io non ho modo di verificare nei prossimi giorni se voi avete iniziato questa cosa ma certamente quello che potete fare è a fine di ogni lezione vedere di andare di alzare il sedere e andare a vedere qualcosa in città perché la principale avversione che ha l'artista è la pigrizia la pigrizia vi fotte ovviamente magari stasera non ci sono inaugurazioni però le gallerie ci sono qualcuna è chiusa qualcuna è aperta boh eh ok ci fermiamo un attimo qua perché poi vorrei entrare nella parte viva della questione da questo primo turbolento spezzone diciamo quello che io spero vi sia passato è una cosa molto importante cioè il primo limite per cui diciamo vi siete trovati a disagio o non avete ottenuto quello che volete consiste in quello che pensate cioè le cose che voi pensate sono il grande ostacolo cioè quello che sin qui avete pensato di come funziona il sistema la sua eventuale stato di corruzione la indisponibilità oppure il fatto appunto che abbiamo menzionato del di come i soldi si dovrebbero saldare all'attività creativa cioè quello che pensate costituisce veramente il primo muro per non riuscire quindi la prima cosa è scardinare queste idee cioè iniziare ad abbracciare la possibilità di pensarla diversamente io mi rendo conto che non è come schiacciare un tasto e dire bene da oggi in poi non penso più così però se riesco a persuadervi che alcune idee sono controproducenti io già riterrò questa esperienza un successo Henry Ford diceva una frase secondo me molto intelligente qualunque cosa che tu pensi che sia vera o falsa si realizzerà per cui se tu pensi che il sistema dell'arte è qualcosa che per te è chiuso è indisponibile questa cosa si invera nella vostra vita come una profezia qualsiasi cosa pensiate diventa vero perché che tu abbia ragione o torto quella cosa è vera perché è vera per te nei tuoi pensieri il sistema dell'arte è qualcosa di inaccessibile ed ecco che in tutta la tua vita sarà una dimostrazione di questa inaccessibilità quel ragazzo che è andato via mi dispiace che sia andato via ha detto sono qui per essere smentito non è vero non era qui per essere smentito perché per essere smentiti bisogna avere la disponibilità a pensare diversamente da ciò che si è fin qui pensato cioè i pensieri come dicevo prima sono potentissimi sono una forma di energia lo dice anche la fisica quantistica perciò se voi pensate una cosa quella non è una cosa stratta è un pacchetto energetico potentissimo se io penso non ce la farò io non ce la farò se penso ce la farò e do il grado di come voglio farcela mi avvicinerò a quella cosa magari non succederà esattamente che io esporrò al Guggenheim di New York ma certamente mi avvicinerò il più possibile a quella cosa ma devo iniziare a pensare con tutto me stesso che le cose che ho pensato fin qui e che io ho considerato degli ostacoli non sono ostacoli perché c'è modo di fare per ogni cosa c'è un modo di fare est modus in rebus dicevano i latini ok allora adesso vorrei iniziare con qualcosa di un po' più ironico perché vi ho detto che per diventare un insider bisogna frequentare ovviamente l'atteggiamento che voi avete nel momento in cui iniziate a frequentare è molto importante credetemi che io ho passato molti guai all'inizio perché non capivo come relazionarmi allora qui c'è un bellissimo decalogo pratico dell'artista principiante prendete con le molle la parola principiante è anche ironica ovviamente non si dice principiante per dire che non sa fare si dice principiante nel senso che deve capire come fare per questo è un libro è desunto da un libro di Giampaolo Di Cocco che era uno scultore che ha avuto più successo in Germania che in Italia e ha fatto un libro che si chiama il galateo dell'artista principiante pubblicato dai quaderni terziaria purtroppo non si trova facilmente però io da questo ho estratto questo decalogo Gillo Dorfles che forse voi conoscete l'aveva recensito sul Corriere della Sera nel 2001 lui dice di questo libro il modo di presentarsi al critico al mercato il modo di sapere esibire la propria merce artistica il modo di sapere adescare il bravo e spesso ottuso collezionista il modo di saper sottolineare ma non troppo i propri successi le proprie originalità idiosincrasie eccetera di tutti questi ed altri spinosi problemi la cui conoscenza è indispensabile a un artista principiante ci parla con piacevole scrittura e con garbata ironia e ahimè con effettiva saggezza già che scopre molti altarini della critica e della committenza Gian Paolo Di Cocco dall'alto della sua ormai larga e per fortuna fruttuosa attività artistica l'autore è uno degli scultori meno propagandati in Italia e più meritevoli di esserlo e che per contro all'estero soprattutto in Germania ha raccolto molti allori lui dice io amo molto i decaloghi diciamo direbbe le top ten se avete mai visto il film Alta Fedeltà perché riassumono in brevissimo dei concetti importanti lui dice non disprezzare il lavoro di un altro anche se ti sembra brutto pensa che quel collega contribuisce a evitare che quel brutto lavoro lo faccia tu due non invidiare il lavoro altrui tu non sei migliore o peggiore sei diverso bisogna avere coscienza di questo tre ricorda di avere sempre il massimo rispetto del tuo lavoro se non lo fai tu ti giuro che non lo farà nessuno quindi una cosa importante è pensare al proprio lavoro con amore e con rispetto anche se è passibile di miglioramento ma il rispetto si evince subito se voi siete insicuri sul vostro lavoro l'interlocutore se ne accorge come può fidarsi di voi se nemmeno voi vi fidate del vostro lavoro quattro molto importante questo molto 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 non dire mai male di altri artisti soprattutto in loro assenza eviterai di farti un sacco di nemici e credetemi a me è successo all'inizio della mia carriera mi è successo avevo l'abitudine e l'abitudine del principiante è denigrare l'altro per come dire esaltare se stesso cazzata mondiale impara impara dall'altro perché vi assicuro che io ho subito delle vendette incredibili da critici più grandi di me i quali vedevano che io stavo emergendo e non tolleravano questa cosa e mi hanno pugnalato le spalle ma non una volta di più mi hanno fatto saltare mostre in gallerie le loro amiche mi hanno fatto perdere danaro e mi hanno fatto perdere anche credibilità quindi non fate mai questa cosa non parlate male degli altri parlate bene di chi vi piace dove va la vostra attenzione lì va la vostra forza cioè l'attenzione o il pensiero come diceva prima è una forma di energia se io decido di concentrarmi su ciò che va male questa realtà che va male è costantemente presente alla mia vita se io decido di concentrarmi sulle cose positive sulle cose che mi piacciono io inietto nella mia vita le cose che voglio quello che penso nel bene e nel male si realizza per cui se io credo di vivere in una condizione tremenda insostenibile e continuo a pensare a quello io aumento e decuplico quella presenza nella mia vita se invece voglio qualcosa di positivo devo iniziare a pensare a quello che mi piace perché mi fa meglio mi fa più bene pensare le cose che amo rispetto a quelle che odio se io passo tutta la mia vita a coltivare pensieri negativi la mia vita diventa negativa è molto non è esoterico questo è buonsenso 5 abbandona l'atteggiamento mi piace non mi piace nel considerare il lavoro degli altri non ti serve cerca piuttosto di capire il percorso seguito dire mi piace o non mi piace è limitativo infatti io vi obbligherò a non dirlo qua quando vedremo i vostri portfogli 6 non invidiare il successo di un altro artista piuttosto prendi ad esempio come ha fatto quello lì a fare questa cosa come ha ottenuto questi risultati sono le domande legittime che vi dovete fare sappiate questo me l'hanno raccontato è un episodio molto bello Maurizio Cattelan prima di diventare così famoso aveva l'abitudine di osservare dei personaggi che gli interessavano di potere so di per certo perché conosco persone che hanno lavorato con l'architetto Alessandro Mendini che Maurizio Cattelan andò da lui a fare come dire a fare d'assistente lui chiese questo in realtà con sgomento di Mendini quello che accadde fu che semplicemente Cattelan si sedeva e lo guardava lavorare lo guardava rispondere dal telefono notava l'atteggiamento della persona di potere il modo in cui affrontava le cose è una cosa che nella programmazione neurolinguistica si chiama rispecchiamento cioè tu puoi carpire il segreto di un successo non rifacendo materialmente le stesse cose che fa con la persona ma semplicemente imitando o acquisendo il suo modo di esprimersi di comunicare la sua fenomenologia non so come dire noi impariamo che cos'è il potere o il successo osservando qualcuno mentre esercita queste qualità quindi in questo senso intendo capire cosa è che ha fatto di quell'artista un artista migliore di me o in una condizione migliore della mia imitare è una base importantissima perché un grandissimo pregiudizio dell'artista è quello di dover essere originale che è una minchiata cosmica l'originalità cioè non esiste la creazione ex nilo non esiste lo dicono i più grandi artisti del mondo il principio dell'imitazione è la base per imparare e c'è un modo buono di imitare e un modo cattivo di imitare quello buono è l'imitazione quello cattivo è il plagio sono due cose molto diverse ma ne parleremo torniamo a Giampaolo Di Cocco lui dice molto importante non abbatterti se il tuo lavoro viene rifiutato pensa che essendo buono prima o poi verrà accettato sono molti i motivi per cui si rifiuta un lavoro e non necessariamente la sua cattiva qualità quanto è vero voi avete la fortuna di andare da un gallerista mostrate il vostro lavoro e lui dice no le ragioni possono essere non è un buon lavoro sì può essere una ragione altre possono essere ho la scuderia piena tratto solo artisti che fanno concettuale tratto solo pittori non lavoro con le donne lavoro soltanto con artisti al di sotto dei 35 anni tantissime possono essere delle ragioni la maggior parte non hanno proprio a che vedere con la qualità del lavoro questo già dovrebbe farvi capire di non abbattervi cioè comunque la strada del successo è la stricata di insuccesso anche perché questa parola è importante capirla che cosa è il successo che cos'è cos'è il successo per voi qualcuno mi dia una definizione di successo semplice anche realizzazione dicono realizzazione riconoscimento raggiungimento dei propri obiettivi ok e come mai usiamo questa parola e non queste che avete detto successo è il participio passato del verbo succedere qualsiasi cosa sia successa è un successo ed è normale che alcune cose abbiano un segno positivo e altre negativo e molte delle cose negative sono la base per i raggiungimenti successivi perciò il successo è ciò che è accaduto e ciò che è accaduto ha una ragione bisogna trovare quella ragione non trovare scuse non trovare alibi bisogna trovare la ragione e porvi rimedio altrimenti si persiste nell'insuccesso otto non sono d'accordo ma lo dico lo stesso tieni celata la tua intelligenza critica soprattutto ai critici non è del tutto vero emerge una schiera di nuovi critici che non hanno una grande volontà di rischiare di assumersi la responsabilità di aver scelto male quindi notare per questi critici io li chiamo deboli sapere che un artista è strutturato culturalmente che sa parlare che sa vendersi che ha delle qualità ovviamente è confortante perché implica che l'eventualità dell'insuccesso è minore ma questo come dire è sbagliato nascondere la propria intelligenza critica bisogna svilupparla bisogna essere intelligenti criticamente perché questo è importante un artista strutturato è un artista che sa quello che sta facendo può piacere o no ma sa quello che sta facendo 9 se ti senti emarginato per il tipo di arte che pratichi pensa che si tratta infallibilmente di pregiudizi perché non c'è un'arte più arte di un'altra arte e forse chissà stai aprendo delle nuove strade che gli altri ancora non possono capire quindi coraggio 10 se viene rifiutato pensa che c'è sempre un altro posto dove il tuo lavoro può essere accettato cerca questo posto l'errore più grande degli aspiranti artisti o degli artisti all'inizio o degli artisti che non hanno ancora trovato un modo è di pensare di proporre il proprio lavoro a chiunque è sbagliato c'è una galleria per te tu devi capire qual è nelle tue corde quale mostra degli artisti che in qualche modo ti corrispondono tu devi trovare il tuo luogo il tuo tipo di critico chiaramente all'inizio spari nel mucchio e va bene certo non ci sono poi così tante possibilità quindi quelle che ci sono le devo sfruttare ma chi riesce particolarmente chi trova il luogo dove respira qualche cosa che gli corrisponde chiaramente se quei lavori ti corrispondono può darsi che il tuo lavoro corrisponda a quella galleria o a quel critico cioè bisogna focalizzarsi è una scelta implica coraggio perché dice non chiedo a tutti chiedo a quelli che mi interessano siete voi il primo motore dell'interesse deve prima interessare a voi quella atmosfera lì perché magari ci sono solo due gallerie non mi piace quella non mi piace quella e che faccio però non tento no alzi il sedere e ti muovi trova la tua galleria per trovarla devi frequentare devi frequentare quella cosa che ti piace se no non succede niente quindi questo è il primo io vi chiedo quando tornate nelle vostre case di appendere queste cose con un magnete al frigorifero o mettere in un posto dove vi siano evidenti non importa che le leggiate continuamente però averle lì guardarle con la coda dell'occhio è importante perché molte cose sfugono io sto parlando voi state ascoltando tanta di questa roba si perde finché non iniziamo il lavoro quindi adesso venite qua e prendetevi il vostro foglio è un solo foglio fai tu guarda prende il decalogo si si passate lì dietro ovviamente adesso entriamo nel vivo io vi chiedo quanti di voi hanno un barlume di portfoglio o un'elencazione di lavori che possono essere visti cioè avete una specie di portfoglio anche digitale non importa come ok e ce l'avete qua una cartella ok quasi tutti ce l'avete tu no ma domani ce l'avrai si si domani ce l'avrai io vi chiedo di lavorare di lavorare anche dopo queste ore lo so che avete altro da fare tutti abbiamo altro da fare sono solo tre giorni vi chiedo di fare sforzi in questi tre giorni vi farò fare sforzi perché c'è un grande segreto le cose succedono fuori dalla vostra area di comfort non succedono dentro quello a cui siete abituati a fare quindi io vi obbligo a uscire dalla vostra area di comfort di fare sforzi di porvi in una condizione di disagio perché lì troverete delle cose questo è come dire l'insegnamento fisiologico per questo all'inizio vi dicevo guardate che all'accademia c'è uno che parla e gli altri che ascoltano vi dimenticherete di tutto io devo farvi avere delle reazioni fisiologiche alle cose perché il vostro corpo è intelligente più della vostra mente e voi avete bisogno di fare delle cose così che il ricordo si saldi a quella cosa quindi vi farò fare anche degli esercizi un po' qua un po' a casa proprio delle cose da compilare delle cose a cui rispondere quello che faremo a partire credo da oggi pomeriggio è iniziare a provare una lettura di portfolio lo faremo insieme vi spiegherò le regole del gioco e vi spiegherò cosa fare ma quello che dovrete fare probabilmente alla fine di queste ore della giornata è iniziare a impostare uno statement vi dirò come si fa uno statement per il momento la prima cosa che vi dico è per il vostro futuro come si realizza un portfolio corretto chiaro efficiente che è lo strumento che voi farete che vi arricchirà molto e che vi darà più opportunità per questo c'è un altro bel foglietto con un'altra serie di elencazioni ancora in 10 punti allora il portfolio che cos'è principalmente io lo so che è molto più facile averlo su un computer però vi racconto questa cosa a meno che non abbiate un ipad super veloce ma poniamo che arriviamo a quella cosiddetta soglia in cui facciamo vedere il nostro portfoglio al gallerista al critico al giornalista o anche all'amico artista ricordate che sono sempre delle macchine col calcio in culo tirato in resta no? non hanno pazienza nessuno ha pazienza per le cose che non sono di nostra competenza allora voi ce l'avete sul computer arrivate dovete accendere il computer aspettare che si accenda dovete andare a cercarlo nella cartella X oh cazzo non si apre aspetta no? ah no l'ho messo qua sono minuti che passano c'è irritazione che monta che implica che non c'è già più come dire la stesso grado di disponibilità un portfoglio fisico io arrivo con un oggetto così un po' più bellino di questo magari lo apro metto lì inizio a parlare e sfoglio niente di più semplice lo posso fare con un iPad certamente perché è altrettanto rapido e veloce ma l'idea è accorciamo tutta questa faccenda della indisponibilità non mettiamoci in una condizione come se l'altro ci dovesse per forza ascoltare noi non siamo il centro del mondo noi siamo il centro del nostro mondo ma quando gli altri ci parlano dopo un po' perdiamo attenzione se la cosa non ci riguarda direttamente questo vale per tutti non esiste che un gallerista per il suo ruolo debba accondiscendere a spiegazioni lunghe e farsi due palle così e neanche un curatore non esiste e anche voi mettetevi nei panni di qualcuno che vi mostri il suo portfoglio e che abbia una lungaggine una pesante non lo tollerereste si fate buon viso a cattivo gioco perché è vostro amico non lo volete offendere ma nel mondo professionale non possiamo chiedere agli altri questa disponibilità dobbiamo essere efficaci efficienti allora un modo per fare il portfoglio intanto il portfoglio è un contenitore possibilmente più bello di questo possibilmente di un colore neutro che abbia questa fondamentale cosa gli anelli che non abbia i fogli di plastica ma abbia dei fogli un po' più spessi di quelli che normalmente usate per stampare di cartoncino che voi bucate e che mettete qua perché gli anelli molto semplice perché il portfoglio non è la stella di rosetta non è incisa nella pietra il portfoglio è quello che voi siete e voi non siete la stessa persona nel corso degli anni voi cambiate il vostro lavoro cambia delle cose che avete fatto dieci anni fa non vi piacciono più non vi rappresentano non vi fanno fare brutta figura si tolgono via si mettono le cose più interessanti il portfoglio è una compilation alla massima potenza la selezione mirata e accurata dei vostri lavori selezione impietosa solo il meglio the best of ok come si fa a scegliere un best of e come si organizza sulla pagina si organizza così la prima allora il portfoglio contiene diciamo lo statement cioè quello che voi dite in prima persona di voi stessi del vostro lavoro il curriculum espositivo corto o lungo che sia e poi come dire la parte vera e propria di portfoglio i lavori i lavori si organizzano in senso cronologico inverso prima vengono gli ultimi lavori cioè si ipotizza che siano i migliori perché? perché questa è una concezione proprio della storia dell'arte che c'è sempre stata la storia dell'arte è progressiva almeno in occidente no? cioè implica che nel corso del tempo ci siano dei superamenti no? lo so il il rinascimento ha trovato una compiuta perfezione il manierismo è un superamento del rinascimento e il barocco è un superamento del manierismo e via di seguito questa cosa la dovete riportare anche nella dimensione individuale quello che voi facevate all'inizio era chiaramente di minore qualità di quello che fate adesso perché c'è stata di mezzo un'esperienza una fatica un lavoro magari anche un ampliamento delle proprie conoscenze e tecniche e anche del mondo in cui vi muovete quindi prima si vuole vedere lo status quo cosa siete adesso oggi quindi i primi le prime opere diciamo 4-5 per ogni serie se lavorate a delle serie le serie sono tematiche oppure basate sull'utilizzo di una tecnica poniamo che non fate sempre la stessa cosa poniamo che siate un pittore e che abbiate iniziato con dei paesaggi poi siate passati a delle nature morte poi improvvisamente siete diventati astratti insomma ci sono delle fasi no? allora vanno divise per fasi la prima fase è quella più recente e via di seguito fino alla meno recente è esattamente come si organizza un curriculum uguale quindi le ultime cose l'immagine va messa al centro del foglio possibilmente con l'immagine stampata mai a vivo mai deve esserci sempre un passepartout che lasci respirare l'immagine che dia l'idea della dimensione non dovete usare carta fotografica basta una comune stampante magari cercando di vedere che i colori siano corrispondenti il più possibile oppure andate da un tipografo che vi stampa però no carta fotografica fa tanto portfoglio di fotografo da matrimoni non va bene e non è importante ma io ho più esperienza di lei non è un catalogo è un portfoglio se il lavoro è buono non è vero allora può fare una fotografia e incollarla sul foglio di carta ma mi deve lasciare no non è brutto mi creda che ho visto tanti tanti portfogli è brutto vedere i portfogli con la fotografia intera dentro è proprio brutto assai va organizzato come un catalogo ma non è un catalogo non si richiede l'alta fedeltà dell'immagine ma l'idea di che cosa state facendo una buona stampa io sto dicendo le cose come vanno fatte se voglio fare diversamente le faccio diversamente una buona stampa si può fare comunque si può fare anche su carta opaca si può le stampanti attuali fanno stampano anche le fotografie va bene comunque è un dettaglio lei non vuol fare così vedrà cosa succede non facendo così per quanto sia difficile va fotografato bene il lavoro il lavoro va fotografato bene quello sì e poi va stampato in miglior modo possibile ma ripeto deve esserci un respiro nella pagina perché la pagina deve contenere la foto del lavoro e la didascalia sotto ok sembra facile non è come lo faccio un portfoglio così o così dipende se sono uno che fa prevalentemente dei lavori ad andamento orizzontale sarà meglio che scelga questa perché chiaramente se stampo un lavoro orizzontale così questo è il risultato eh ok quindi uno deve scegliere in base alla maggioranza dei suoi lavori per renderli meglio no però l'immagine deve essere grande ma non tanto grande da non lasciare respirare deve essere collocata al centro dovete immaginare non dico proprio come le copertine dei romanzi Sellerio no che hanno questa cosa che in origine era proprio attaccata era una stampa attaccata però qualcosa di simile lasciate respirare l'immagine ovviamente cercate di mantenere una corrispondenza non tecnica e perfetta ma se io ho un due metri per due metri lo devo stampare un po' più grande del 30x30 non devo fare la stampa uguale del 30x30 e del 2x2 devo far capire all'interno che ci sono delle scale diverse non devo essere un architetto ma devo far capire quindi come dove la posiziono questa cavolo di disascalia io consiglio a piedi pagina non attaccata all'immagine non azzeccata perché è un elemento di fastidio visivo la metto a piedi pagina che cosa metto perché io ho visto di tutti i tipi di disascalie del mondo questo ve lo dovete segnare perché non c'è scritto allora il titolo va in corsivo quello è un po' stortino così titolo in corsivo segue tecnica se è una foto che ne so stampata su non so cprint su alluminio di bond quello che volete virgola misure in centimetri virgola anno negli Stati Uniti fanno così invece titolo virgola anno virgola tecnica virgola misure solamente invece di metterlo alla fine lo mettono subito dopo il titolo va bene anche così va bene anche così deve essere così ovviamente voi la mettete a piedi pagina potete farla in questo modo so che è un po' noiosa ma è meglio essere precisi se la mettete a piedi pagina e volete un effetto migliore non tenetela tutta su una riga fate titolo a capo anno a capo tecnica a capo misure vi viene tanto così piccolino non usate il nero al 100% è brutto non usate il grassetto mai è brutto scegliete un carattere che non sia invasivo cioè l'idea è che nel portfoglio l'attenzione cada sui vostri lavori che non ci sia un'elaborazione grafica che distragga non mi interessa avere i virigori sotto mi interessa avere il lavoro su un foglio di colore neutro che può essere dal grigio al bianco nero ma io il nero sconsiglio e la didascalia questo è quanto l'organizzazione come vi ho detto temporale inversa e veniamo al curriculum ok ovviamente lo statement è una dichiarazione generale su tutto il proprio lavoro può essere che però io faccia dei lavori particolarmente diversi per cui la dichiarazione generale non si addica a quella particolare sfera dei miei lavori bene devo fare uno statement particolare su quella cosa particolare all'interno ogni serie di lavori dovrebbe essere preceduta da un mini statement però qua andiamo sull'elaborato diciamo allora invece che il curriculum quello sì che è importante il curriculum deve contenere quando dico curriculum intendo dire curriculum espositivo non mi interessa se avete fatto il corso di sub e quelle cose lì allora nome e cognome ok nato a vive e lavora a eventualmente se è importante se ha fatto l'accademia o se ha fatto una scuola di arte superiore o qualcosa di particolarmente attinente ma tre righe dopodiché passiamo proprio alla fase espositiva prima vengono sempre le mostre personali quindi si mette mostre personali oppure semplicemente personali il modo di procedere è temporale inverso l'ultimo anno nel 2015 bene se ho fatto nel 2015 altrimenti l'ultimo anno in cui ho fatto una personale 2015 anno da solo in grassetto a capo su una riga tutte su una riga la mostra personale che ho fatto nel 2015 se ne ho fatte due a capo metto la seconda che ho fatto nel 2015 se ne ho fatte tre a capo metto la terza avete capito? come si iscrivono le mostre fatte titolo della mostra in corsivo virgola a cura di se c'è un curatore virgola lo spazio lo spazio in cui l'ho fatta associazione fondazione galleria virgola la città in cui l'ho fatta città se è una città minore tra parentesi la provincia ok? al punto alla fine se c'è un catalogo che testimonia quella personale o quella collettiva tra parentesi cat punto altrimenti devo aprire una nuova voce che si chiama bibliografia e li metterò lì i cataloghi ok? quindi io titolo in corsivo a cura di spazio espositivo città se è all'estero città e tra parentesi o anche non tra parentesi dopo la virgola la nazione possibilmente nella lingua della nazione possibilmente ovviamente se è in arabo no mettete in arabo mettete arabia saudita piuttosto che ok? lo stesso con le collettive l'importante è che l'anno venga ripetuto solo una volta c'è il 2015 con le sue belle mostre poi c'è il 2014 con le sue belle mostre poi c'è il 13 con le sue belle mostre finisce l'elencazione e faccio quella delle collettive anche lì mostre collettive oppure solo collettive o se volete fare gli internazionalisti group show e solo show ok? dove si mettono le fiere le partecipazioni alle fiere si mettono nelle collettive dove si mettono le partecipazioni ai premi in cui si sia stato finalista nelle collettive non si mettono partecipazioni a premi se non si è stato almeno finalista perché i finalisti di solito fanno una mostra quindi ci sta la mostra nelle mostre collettive la mostra dei finalisti se si vince si mette la mostra dei finalisti e si aggiunge alla fine vincitore primo premio della pittura vincitore secondo premio fotografia eccetera ok? è molto importante la chiarezza e il layout che deve essere molto chiaro tutto è a bandiera a sinistra non centrale con le alette che vengono fuori così e fanno i disegnini a sinistra postato a sinistra possibilmente usate un nero all'80-70% quasi grido una cosa sobria la sobrietà dice qualcosa di voi se siete sobri e il lavoro parla avete maggiori risultati nei consigli del portfolio che vi ho messo qua io dico se avete dei testi critici delle presentazioni in relazione a una determinata serie potete mettere un piccolo estratto è anche un modo per far vedere chi ha scritto su di voi altrimenti nel curriculum potete mettere la bibliografia e dire la bibliografia nome dell'autore virgola corsivo il titolo del catalogo del libro virgola editore virgola città dell'editore ok? anche lì 2015 queste pubblicazioni 2014 queste pubblicazioni eccetera può essere che delle volte nelle mostre che avete fatto si è stato fatto un articolo no? per fortuna allora alla fine si può anche avere una piccola sezione di rassegna stampa è utile tutto questo quando viene fatto è tutto un lavoro analogico è ovvio che siccome lo dovete fare al computer questa cosa non dovete scriverla a mano quella cosa che avete fatto al computer si trasforma in un pdf digitale utile utile per essere mandato diciamo via email o per essere condiviso su un social con le persone a cui vi interessa mandarlo ok? però è molto importante che il lavoro sia fisico perché quella scelta quel fare quello stampare quel pensare ripensare selezionare escludere è qualcosa per cui voi date attenzione a voi stessi al vostro lavoro capite a che punto siete vi rendete conto oggettivamente se una cosa è buona se non lo è ok? e quello che dovete presentare alla fine è il vostro best of non importa se è menzoniero nel senso che il più delle volte non avete raggiunto quell'eccellenza che avete messo nel portfolio bene si mente a fin di bene è lo stesso discorso di prima faccio finta di essere di finché non sono diventato quella cosa lì e poi tutti mentiamo quindi che problema c'è? l'importante è mentire a fin di bene e non a fin di male e qui il bene vostro è il fatto di riuscire a ottenere dei risultati anche qui magari chiedo a Margherita o a Cristiano se consegni se consegni a loro i consigli per un portfolio non abbiamo parlato dello statement volutamente perché invece è qualcosa che vi spiego adesso come farlo perché io inizierei il pomeriggio dandovi mezz'ora per scrivere il vostro statement qui su un foglio dove volete qualcosa che poi riporterete sul computer e aggiusterete perché domani mi piacerebbe sentire i vostri statement ok io vi dico che cosa è e come si fa ho dimenticato di dirvi il portfoglio può essere in A4 può essere in A3 può essere in A5 fate voi che sia la cosa migliore per voi e per il vostro lavoro non c'è una regola uno può fare come vuole io ho dato delle norme che non devono essere considerate tutte vincolanti vi ho dato delle buone norme però poi dopo come dire ognuno si regola l'importante è che la cosa abbia un senso e un'efficacia che cos'è uno statement statement è una parola inglese che significa affermazione o dichiarazione meglio ancora una dichiarazione in quanto tale deve essere scritta in prima persona fa infatti piuttosto ridere uno scritto fatto dall'artista che parla di sé in terza persona perché ti viene subito da immaginartelo nello sforzo di guardarsi da fuori l'artista nella sua ricerca ha voluto dire fa ridere no lo statement è un testo breve succinto dieci massimo quindici righe ok che cosa contiene lo statement tre cose semplici che cosa come e perché che cosa significa che cosa faccio sono un pittore sono un fotografo sono un video artista sono un performer un body artist quello che volete il campo di indagine la prima cosa il come come affronto quel campo di indagine quali sono le tematiche che mi interessano se ci sono tematiche o se il mio è un interesse puramente linguistico io posso essere un pittore che non dipinge tematiche dipinge in una maniera innovativa e allora chiaramente il mio tema è il linguaggio stesso della pittura di solito i grandi artisti i veri temi sono sempre il linguaggio stesso del mezzo che stanno indagando il forzare il mezzo per ottenere effetti o indagini di qualcosa che ti interessa che abbiano una sensibilità nuova perché come vi dicevo non esiste la creazione ex nilo la creazione dell'artista è un rifacimento a qualcosa che c'è già stato ma un rifacimento intelligente che aggiunge elementi di novità perché il neoclassicismo non è il classicismo il neoclassicismo è proprio un'espressione evidente del passaggio tra il 7 dell'ottocento cioè è proprio nel tempo anche se è una forma di citazionismo ma è nel tempo riflette l'interesse archeologico di quel momento le scoperte la rilettura del passato una rilettura ovviamente falsata perché sappiamo bene che molte delle opere almeno scultorie greche non erano affatto monocrome ma erano dipinte quindi ovviamente il neoclassicismo non è non è il classicismo ma il classicismo romano non è il classicismo greco e come dire il romanticismo non è assolutamente una forma di romanico o di gotico cioè tutti i revival e le riletture hanno sempre avuto una sensibilità attenta al contemporaneo cioè hanno sono stati il riflesso di un tempo e perciò sono diversi potrei dirvi i citazionisti i pittori citazionisti degli anni 80 che hanno riguardato la classicità o la storia dell'arte ovviamente non erano quella cosa lì indicavano l'attenzione verso il passato e un certo tipo di passato di quel clima di quella temperie culturale penso ad esempio a come negli anni 80 attraverso la musica New Wave ma anche attraverso le arti sia stata riletta tutta la tradizione del costruttivismo rusco del futurismo qualcuno di voi avrà sentito parlare dei nuovi futuristi erano un gruppo di artisti degli anni 80 che non erano futuristi guardavano un aspetto del futurismo quello di De Pero che è un aspetto comunque di coda del futurismo quindi cosa riflettevano questi sguardi verso il passato queste riletture delle avanguardie la temperie tipicamente post moderna di quel periodo cioè il mescolamento del nuovo con l'antico la sensibilità del tempo e la rilettura non è mai quello che era è una rilettura quindi in questo senso noi quando creiamo stiamo facendo quell'operazione post moderna di rileggere qualcosa che c'è già stato e ovviamente non può essere diversamente questa cosa bisogna persuadersi che l'originalità non esiste solo Dio è originale solo il primo creatore ammesso che voi ci crediate è originale il resto è partiamo da qualcosa creiamo da qualcosa è molto importante perché altrimenti si sviluppa la sindrome dell'essere originale a tutti i costi che è una malattia dell'artista contemporaneo ma guardate che Raffaello ha guardato i classici quando ha scoperto come dire le decorazioni dei romani le ha rifatte ma le ha rifatte a suo modo Michelangelo ha guardato alla statuaria classica cioè tutti i grandi hanno guardato Picasso ha iniziato imitando Velázquez voglio dire rifacendolo l'imitazione è il primo principio per imparare e non parlo solo dell'imitazione dell'imparare che si fa le accademie cioè copiamo gli antichi così iniziamo a farci la mano parlo dell'imitazione del modo di pensare di come riuscire a ottenere determinati risultati come hanno fatto gli antichi e come sono ancora moderni oppure come hanno fatto quelli di un secolo fa tutto è un rimescolamento però il modo di rimescolare può essere originale o no se tu cerchi di fare una copia un plagio oppure prendi un'idea da un altro completamente e la rifai quella è plagio non è più imitazione è una sottocultura dell'imitazione l'imitazione è non imitare mai da uno imita da tanti prendi il meglio delle idee da tanti non da uno perché chiaramente sennò diventi l'epigono di quell'uno che sta imitando bisogna imitare e prendere più idee intorno perché le idee sono intorno non sono solo nella nostra testa l'ubicazione delle idee è incerta pensare che tutto ci venga da dentro non ci costringe a confrontarci col fuori invece è attraverso il confronto col fuori che noi possiamo nutrire l'immaginario interiore quindi che cosa come e perché perché io mi interesso a un tema piuttosto che un altro nel mio lavoro quello che devo fare è dire in prima persona che cosa faccio come lo faccio se faccio delle serie oppure no che cosa mi interessa devo cercare di far capire agli altri in sintesi che cos'è la natura del mio lavoro allo stesso tempo posso ricorrere ovviamente a dei riferimenti o delle citazioni ma senza esagerare perché sono cose che rompono un po' le scatole cioè un po' ci sta ma anche qua vige il buon senso un buon statement è chiaro e ti dice che cosa stai facendo senza che tu neanche abbia visto i lavori no io di solito avendo più tempo noi non lo faremo faccio in modo che vengano letti tutti gli statement che sono stati preparati e chiedo agli altri di indicare se ci sono dei punti di debolezza o di forza o soprattutto se si è capito quello statement cioè io leggo lo statement gli altri non hanno mai visto i miei lavori però possono immaginarseli se io sono stato capace di farli immaginare ho fatto un buono statement oppure se io sono stato capace di incuriosirli a tal punto da fargli voler vedere il mio lavoro sono stato bravo magari non gli ho dato tutte le informazioni ho messo delle cose sono stato sibillino ma in maniera efficace e intelligente oppure sono stato chiaro ho detto le cose e tu ti aspetti qualcosa poi se la cosa che tu ti aspetti non c'è vuol dire che il tuo statement non è stato molto preciso buono bisogna fare in modo che le due cose collimino e quando ritornate io vorrei che provaste per mezz'oretta a scrivere con la penna su supporti di fortuna il vostro statement e che domani rivedendoci voi abbiate questo statement possibilmente stampato sul vostro computer o iPad e che sia di accompagnamento al vostro portfolio se avete i vostri lavori iniziate a fare una selezione ok perché bisogna che iniziamo a lavorare oggi già vedremo qualche statement qualche portfolio perché voglio farvi vedere com'è il modo in cui vanno lette le cose e quello che voglio è che voi iniziate a impararvi in testa un discorso da fare agli altri sul vostro lavoro un discorso breve una presentazione breve che è il momento performativo che mette più ansia all'artista quando deve spiegarle le proprie cose perché molti dicono ma io le faccio ma non le so spiegare ma tu devi poterle saper spiegare anche se le tue spiegazioni sono create ex post e non sono il motore del lavoro ma vengono dopo perché certe cose le puoi capire anche dopo cioè tu sei il creatore e mentre sta creando trovi delle cose e allora quelle cose che trovi le puoi capire anche dopo oppure sei un creatore di tipo più razionale tu vuoi cercare delle cose e quindi attraverso il lavoro le trovi che è un meccanismo più affine a lavori di architettura e di progettazione normalmente deve esserci una componente erratica nel lavoro uno sbandare uno sbagliare un fare in modo che si trovino delle cose che prima non si trovavano gli errori servono a quello l'errore è il modo per trovare le cose non si trovano così le cose migliori vengono da cose sbagliate i successi vengono dagli insuccessi funziona proprio così ha sempre funzionato così non c'è mai stato un altro modo facendo si impara nel corso di questi giorni cercherò anche di fare un lavoro invece più di tipo psicologico uso una parola un po' magniloquente in realtà non è così ma vi farò fare degli esercizi che hanno a che fare con un nodo fondamentale che è quello dell'autostima non sembra ma è sempre solo una questione di autostima è sempre così tutto è una questione di autostima cioè la cognizione che si ha di sé anche se è piccola bisogna capire che cognizione si ha di sé lo si può fare attraverso le vostre risposte a queste domande che io vi faccio e che ovviamente io voglio che siano segrete cioè servono a voi non servono a me ovviamente se poi qualcuno si sente di condividere ben volentieri però diciamo che io ho sei esercizi ve ne dovrei dare due al giorno da fare a casa non è una cosa che vi mette vi prende molto tempo diciamo in mezz'oretta li avete fatti insomma però è qualcosa che va fatto velocemente di impulso senza pensare troppo chi li ha fatti ha trovato beneficio chi ha risposto a queste cose e chi ha fatto determinati esercizi si è trovato per la prima volta a pensare a sognare quello che vuole consapevolmente perché noi abbiamo paura di sognare e di raggiungere delle cose è così che funziona il lavoro nell'arte è come il lavoro di tutti gli altri degli altri settori non è nulla di diverso siete voi e solo voi tutto il resto sono chiacchiere io so come funziona ma qua la questione è come funziona l'essere umano l'essere umano funziona così sempre deve poter sognare deve poter prendersi carico e responsabilità dei propri sogni per ottenere le cose altrimenti non può succedere nulla le cose vanno pensate il bicchiere è stato prima pensato e poi creato e allora il successo va prima pensato e poi creato ma non come un meccanismo è proprio una questione di avere un orizzonte da raggiungere e quindi vincolarsi a fare le cose per raggiungerlo a che punto siamo arrivati a che ora siamo arrivati mancano 20 minuti vi chiedo fin qui è tutto chiaro ci sono delle cose che abbiamo detto dei temi che abbiamo trattato che hanno aperto cioè questo è il momento in cui potete dire no? in cui magari ci sono cose che non ho spiegato bene ed è giusto che voi chiediate o cose che non condividete anche questo può essere un momento buono cioè non condividete perché quello che mi interessa è che voi abbiate questa disponibilità per imparare dovete uscire dalla zona di confort non c'è verso non succede niente se no succede soltanto quello che è già successo e che voi conoscete se io prendo il tram tutte le mattine alla stessa ora so già quello che mi aspetta a meno che non cada un aereo sul tram per poter conoscere nuove zone io devo prendere un altro autobus oppure andare a piedi cioè devo fare un'azione diversa fin qui non ha funzionato un certo comportamento vuol dire che va modificato vuol dire che dovete provare del disagio che è disagio benefico è disagio creativo tutto funziona solo dove voi siete stranieri e sconosciuti lì dove conoscete c'è soltanto consolazione e ripetizione di cose che già sapete tutte belle abbiamo bisogno anche di quello ma per imparare cose nuove abbiamo bisogno di uscire al freddo di andare dove non ci piace o dove temiamo non ci possa piacere è bello scoprire invece che là fuori al freddo al gero si possono fare delle belle esperienze che in casa non si possono fare quindi se avete qualcosa delle domande please sì mi incuriosiva il passaggio in cui lei parlava del fatto che la vendita diretta da parte dell'artista delle proprie opere può rappresentare un problema un limite poi nella diffusione anche culturale in realtà diciamo che è una tentazione a cui si cede abbastanza facilmente soprattutto all'inizio quindi vorrei magari se è possibile adesso anche nel corso insomma di questi giorni per quanto riguarda la valutazione del proprio lavoro e la svalutazione termini economici sì ma anche senza entrare nel merito del prezzo però secondo me potrebbe essere interessante perché penso che molti di noi partecipino anche banalmente appunto a queste fiere eventi che si collocano all'interno anche di ad esempio banalmente mercatini sì e io a volte esatto mi pongo il problema di creare dei precedenti che poi difficilmente possano essere smentiti anche vendendo a poco prezzo perché non si è conosciuti questa è una questione sensibile certamente perché rientra in quella idea però voi dovete capire questa cosa il mondo dell'arte non è un mondo democratico è un mondo altamente elitario l'arte non è per tutti non nel senso che non è a disposizione di tutti in realtà è a disposizione di tutti ma non è per tutti perché non tutti la vogliono l'arte è elitario perché elitario è il pubblico che si avvicina all'arte per cui l'idea di un'arte che vada come dire data al pubblico è un'idea sbagliata il pubblico prende ciò che vuole e l'arte è elitaria perché la gente preferisce comprarsi la borsetta di Louis Vuitton no? quindi a partire da questo ovviamente se ci rivolgiamo a un mercato che è il mercato elitario del lusso perché più lusso dell'arte forse ci sono soltanto i gioielli il mercato dei diamanti ma diciamo che l'arte è il vertice di lusso dell'economia se ci muoviamo in quest'ambito le nostre azioni devono essere caute per rendere utile questa risposta torno al curriculum dicendo che nelle elencazioni delle mostre collettive o personali è meglio di evitare assolutamente di menzionare mostre nei bar nei pub e in situazioni analoghe voi direte cavolo ma così mi togli metà del curriculum lo so capisco benissimo allora sta alla vostra intelligenza selezionare se mai volete inserire questa cosa che non troverete mai nel curriculum di un artista importante la mostra nel bar a meno che non sia che ne so il ristorante di Armani sta a voi selezionare in queste esperienze che avete fatto quella nel posto che effettivamente è considerato un po' più cool no? allora dire questa la metto però il pub da Mario no il bar sport neanche e tolgo queste cose perché? perché non fanno curriculum non servono a niente sono le necessarie esperienze che ciascuno fa e che è giusto che abbia fatto io ho trovato andando a vedere la mossa in un pub un artista con cui poi ho lavorato molto brava che si chiama Alice Colombo mi chiamò un amico artista e mi disse guarda vai a vedere questa ragazza che è brava ho fatto questa fatica di andare in questo pub quasi fuori in Milano e ho trovato dei lavori interessanti quindi non dico non fate le mostre nei pub fatele ma poi nascondetele ok? si fa ok le mostre nelle gallerie ok le mostre con le associazioni culturali va bene tutto però ecco i pub i bar no se potete evitate come si fa? il fatto di vendere semplicemente da solo costituisce un'economia punto solo un'economia ma il mestiere dell'artista non è solo quello di costituire un'economia cosa già di per sé difficile è quella di costituire una storia noi vogliamo essere artisti perché vogliamo entrare nella storia vogliamo essere vogliamo procrastinare la nostra vita anche per il periodo in cui non ci saremo vogliamo essere ricordati è una pulsione umana giustissima quindi vogliamo essere artisti sì per avere la nostra fama per essere apprezzati perché è meglio che andare in fabbrica perché tante cose però anche perché abbiamo sottile e certe volte nemmeno lo confessiamo questa ambizione di rimanere no? e quindi per rimanere i nostri passi devono essere cauti non si parte allora due regole fondamentali così ci leviamo il dente non si paga per esporre mai mai e mai non si paga per esporre in una galleria ci sono però alcune fiere in cui è data la possibilità a un artista di partecipare va bene non va bene sì e no perché diciamo anche che il ruolo delle gallerie è molto diminuito e che quindi il margine di azione dell'artista si sta spostando anche solo sulle sue capacità questo è comprensibile è vero ci deve essere un margine imprenditoriale per l'artista in cui lui mette del suo se ne ha è successo delle volte che io fossi pagato direttamente da un artista come curatore è successo che un artista pagasse la propria partecipazione a una fiera con il proprio stand però c'è fiera e fiera guardate che Takashi Murakami famoso artista fondatore del movimento Superflat che oggi è un'azienda perché lui ha due sedi dove i dipendenti entrano con il badge aziendale e sono artisti che lui poi porta in importanti gallerie lui organizza ogni anno una fiera famosissima in Giappone credo quasi sia diventata due volte in anno si chiama Geisai Geisai è una fiera di artisti illustratori fumettisti che prendono il proprio stand e propongono i propri lavori tutti ed è uno spettacolo di colori e lui lì ha trovato molti dei suoi artisti assistenti che poi sono diventati artisti in proprio quindi è giusto partecipare alle fiere sì e no dipende bisogna valutare la qualità il livello di norma quello che registra il pubblico italiano è questo si è pagato lo stand perché nessuno l'ha voluto portare in fiera e questo va evitato però un minimo di imprenditorialità ci vuole poniamo che fate una mostra in una galleria la galleria è di buona volontà ma senza sostanze non può pagare un curatore voi potete in quel momento se giudicate giusto farlo e giudicate per voi vantaggioso fatelo non può pagare il catalogo però ti fa una bellissima mostra bene ma io voglio il catalogo non voglio che questa cosa rimanga senza documentazione me lo pago io oppure non fai il catalogo vabbè dai ti vengo incontro ti regalo due tre opere e tu no come per ripagare questa cosa poi ne parliamo in dettaglio in quello che è il capitolo rapporto con le gallerie però diciamo un po' ci vuole di sforzo però la via maestra è quella che ci sia qualcuno che invece crede in te e quindi sia disposto a mettere la mano nel portafoglio che siano collezionisti o galleristi guardate che un buon modo di essere persuasivi verso i galleristi è avere già un seguito di collezionisti il quale viene portato in dote nell'eventualità che tu faccia la mostra in galleria però lì devi vendere attraverso la galleria a quelle persone che porti in dote non puoi vendere in studio perché altrimenti la galleria la prossima volta ti dice sai che c'è la mostra te la fai da sola no perché la galleria investe mette soldi paga l'affitto dello spazio anche tu devi investire in parte ovviamente io sto dicendo possibilmente non pagate perché voi pagate già i materiali con cui fate le vostre cose però se avete la grazia di avere delle sostanze di poterlo fare per aggiustare le cose per fare in modo che quella piccola galleria faccia anche il catalogo fatelo però la via maestra è io faccio le opere ho dei collezionisti qualcuno mi nota espongo nella galleria la galleria fa il suo lavoro io faccio il mio ne parleremo di questo ok risponde abbastanza alla tua idea ok io direi che andiamo in pausa eh grazie a tutti